Musica Nascondevano cocaina ed eroina nei pannolini dei figli, due coppie rom di Campobasso in carcere, 20 gli indagati dopo il blitz dei carabinieri, la droga dal Basso Lazio. La disabilità non è un ostacolo ma un'opportunità, così la ministra Alessandra Locatelli questa mattina a Campobasso per far visita a casa domani dell'IPD e per il taglio del nastro di un centro per bimbi autistici. Teramo al voto, la candidata sindaca Marroni, meno concerti spot e più misure per le famiglie. Verso le regionali fumata nera dopo il faccia a faccia tra Gravina e i centristi che non vogliono rinunciare ai simboli. Pescara pronto, il piano dei parcheggi estivi, tariffe tra le più basse d'Italia. Lavoro nero, l'SOS della CGL di Chieti, fenomeno preoccupante soprattutto tra Vasto e Lanciano, sottolinea il segretario Franco Spina. Infine lo sport e il calcio, Isernia concentrata sui play-off nazionali, i pentri possono battere l'Agropoli. Serie A, la Salernitana è in ritiro a Rivisondoli. Ben trovati a tutti voi, nuovo appuntamento con le news di Teleregione in apertura alla cronaca col blitz operato nelle scorse ore dai carabinieri di Campobasso su ordine della procura del capologo del Molise per reprimere lo spaccio di droga. Due coppie rom di Campobasso sono finite in carcere e complessivamente sono 20 gli indagati, altrettante le perquisizioni compiute, questi numeri dell'operazione denominata France. Gli spacciatori nascondevano eroina e cocaina anche nei pannolini dei figli. Sentiamo Stefania Potente. La droga, che per la prima volta proveniva dal Basso Lazio, veniva nascosta perfino nei pannolini dei figli per sfuggire ai controlli delle forze dell'ordine. Gli spacciatori poi comunicavano nella loro lingua, rendendo più difficile il compito degli investigatori che erano sulle loro tracce. Tutto ciò non ha impedito ai carabinieri di smantellare il traffico di droga a Campobasso messo in piedi da due coppie di etnia rom che vivevano nel quartiere a poca distanza dal centro storico. Il blitz è scattato all'alba di oggi, quando è partita l'operazione France. Quattro le custodie cautelari in carcere. Un 37enne a capo del sodalizio criminale, che includeva anche la moglie di 42 anni e un'altra coppia di 55 e 47 anni, che erano entrati nel mercato locale dopo l'arresto degli spacciatori coinvolti nell'operazione Drug Market condotta nel febbraio 2020. Avevano rapporti malavitosi a Frosinone, dove risiedono il fratello e la sorella di alcuni dei rom arrestati. La droga, al costo di 50 euro, poi è rimessa sul mercato di Campobasso ad una clientela trasversale. Un gruppo criminale di etnia rom, residenti da anni ormai stanziali in quel di Campobasso, nel centro storico, clientela di Campobasso, come ho detto prima, clientela trasversale ed è segnale di maggior preoccupazione. Il dato che ho detto prima, la trasversalità, mi riferivo anche all'età, dal giovane alla persona più attenta. Si riferiva anche al ceto sociale? Pensiamo anche a persone della Campobasso bene, ad esempio? Trasversale significa dal tutto. Tra giugno 2021 e febbraio 2022 sono stati raccolti, a carico di eventi indagati, grave indizi di colpevolezza. Sono state poi documentate circa 2.000 cessioni di sostanza stupefacente, mentre sono stati sequestrati 100 grammi di cocaina, 35 di euroina e 35 grammi di marihuana. È stato riscontrato che nel trasporto dello stupefacente, spesso e volentieri, veniva occultato addosso dei minori, così da evitare, in caso di blocco di controllo, il controllo del minore, e quindi lo stupefacente poteva tranquillamente arrivare a destinazione. All'operazione effettuata questa mattina hanno preso parte numerosi militari dell'arma dei carabinieri che hanno eseguito 20 perquisizioni locali e personali. In collaborazione con l'unità cinofila del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, lo squadrone eliportato Cacciatori Puglia e il quinto nucleo elicotteri Carabinieri di Pescara. Perquisizioni e indagati in Molise nell'ambito dell'inchiesta truffe romantiche coordinata dalla Procura di Spoleto ed eseguita dalla Polizia di Stato. Gli indagati erano specializzati appunto in truffe romantiche, cioè instauravano dei legami sentimentali virtuali con le vittime a scopo estorsivo. Truffa, ricettazione e riciclaggio, i reati ipotizzati, il giro d'affari sarebbe stato di oltre un milione di euro in due anni. La Polizia ha eseguito 18 decreti di perquisizione coordinati dal Servizio Centrale di Polizia Postale e con la collaborazione dei centri operativi di Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Sicilia e Veneto. L'indagine e le perquisizioni hanno toccato le province di Modena, Padova, Genova, Pesaro, Caserta e Campobasso oltre a Palermo e Latina. È deceduta all'ospedale di Sulmona la donna di 60 anni, un'insegnante in pensione caduta dal balcone del suo appartamento a Prato La Peligna. Troppo gravi le ferite riportate dopo un volo di circa 10 metri. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco di Sulmona. Oggi la ministra per la disabilità Alessandra Locatelli in Molise a Campobasso ha visitato Casa Domani dell'Associazione Italiana Persone Down e tagliato il nastro del primo centro molisano per bimbi e ragazzi autistici. Io sono speciale. Sorrisi splendenti e abbracci tanti in una giornata luminosa nonostante la pioggia. Una giornata speciale come le ragazze e i ragazzi dell'Associazione Persone Down di Campobasso e come il nome del primo centro per bimbi autistici del Molise. Gli ospiti di Una Casa per Domani hanno accolto la ministra per la disabilità Alessandra Locatelli con applausi ed entusiasmo. Hanno raccontato le loro storie, la voglia di autonomia, i progetti e gli amori nati durante le attività coordinate dagli incomiabili operatori, come quella tra Roberta e Domenico. Domenico, tu sei fidanzato con Roberta, grazie all'Associazione vi siete incontrati? Sì. Roberta, prima parlavi del futuro, come deve essere il futuro per voi? Il vero futuro ce l'ho, deve avere un lavoro insieme a Domenico, che voglio fare fuoco e voglio aiutare. La Presidente Giovanna Grignoli ha accolto l'occasione per lanciare un appello. A dicembre il progetto di autonomia potrebbe finire. Servono aiuti per mantenere un servizio fondamentale e la ministra ha garantito massimo impegno. A livello territoriale si può fare tanto. Intanto tutti questi enti del terzo settore e del mondo dell'associazionismo che lavorano così bene dovrebbero essere valorizzati, dovrebbero far parte di un tavolo di coprogrammazione e di coprogettazione proprio insieme agli enti locali. Quello che io continuo a dire è che per il futuro noi possiamo lavorare bene e intercettare i bisogni dei cittadini e saper rispondere ai bisogni dei cittadini solo se uniamo le forze. Istituzioni, enti del terzo settore e anche un po' il mondo privato perché serve anche qualcuno che magari qualche volta un contributo più lo metta e spesso ci sono realtà del mondo privato e privato-sociale che veramente lavorano bene e in sintonia con tutti gli altri. La ministra Locatelli si è spostata poi al Cinema Maestoso dove con autorità e associazioni del terzo settore ha partecipato all'evento di presentazione della struttura Io Sono Speciale prima in regione a erogare servizi per bimbi autistici ideata dall'amministratore Alessandro Pascale. Una giornata dedicata a tutti nell'occasione della venuta del ministro che ringrazio speriamo che questo sia il primo passo, il primo scossone che diamo su questa regione per andare avanti e offrire servizi dove oggi abbiamo veramente delle liste di attesa molto lunghe. E patrocinando il taglio del nastro la ministra ha espresso il proprio plauso per la nascita del centro. Intanto questo è un centro che sarà un centro, un punto di riferimento di valore per il territorio sicuramente del Molise ma anche un esempio, un modello per tanti altri territori che magari non hanno ancora avuto la possibilità di creare una struttura di questo tipo. E restiamo sul tema perché il governatore del Molise, il commissario della Sanità Donato Toma proprio durante l'incontro che si è svolto in mattinata alla presenza della ministra Locatelli ha annunciato che è pronto il decreto col quale la regione determina le tariffe e i criteri di remunerazione per l'assistenza a persone con disturbo dello spettro autistico. Un provvedimento importante, ha commentato Toma, atteso da diverse famiglie molisane, è un grande segno di civiltà. Ultimi giorni di campagna elettorale per le amministrative. A Teramo la candidata sindaca, Maria Cristina Marroni, promette attenzione nei confronti delle famiglie, meno concerti spot, ha detto ai nostri microfoni, più aiuti concreti come gli asili nido, gratis per tutti. Sentiamo il servizio di Pierluigi Borragine. Campagna elettorale alle battute finali, ultime ore per convincere i cittadini di Teramo. La candidata del terzo polo, Maria Cristina Marroni, sostenuta da tre liste civiche, punta molto sugli aiuti alle famiglie per frenare lo spopolamento che ormai da anni attanaia l'intera provincia e sottolinea altresì l'esigenza di andare incontro alle esigenze delle aziende con l'azzeramento dell'Atari. Le risorse? Meno concerti spot e più misure per le famiglie, dice ai nostri microfoni. Voglio che Teramo torni ad essere una città attrattiva per le giovani famiglie e vorrei che Teramo fosse il primo comune capoluogo ad attuare una misura del genere cioè la fascia 03, i nidi comunali, gratuiti per tutte le famiglie a prescindere dall'ISEE e dal reddito. Spesso si dice ci sono le idee ma poi mancano le risorse. Lei dove le trova queste risorse? Abbiamo già valutato nel bilancio la fattibilità di questa misura. Nel solo ultimo anno sono stati spesi un milione e mezzo circa di soldi pubblici per eventi come concerti. Riteniamo che si può recuperare qualche somma da lì e portarla su questa misura che ritengo fondamentale. Quindi meno concerti spot e più misure per le famiglie e per le fasce deboli. Altro obiettivo è alleggerire l'Atari per le attività produttive. Sì, addirittura azzeramento dell'Atari per i primi cinque anni per le attività produttive di nuovo insediamento. Questa è una misura per poter attrarre i nuovi imprenditori e nuove aziende sul territorio terramano. Ed ora le regionali del Molise di giugno. Nelle scorse ore c'è stato un faccia a faccia tra Roberto Gravina, candidato governatore per il centro-sinistra, e i componenti del cosiddetto terzo polo. L'accordo non c'è stato. Fumata nera. Sentiamo ancora per Luigi Borragine. Al netto dei convenevoli d'obbligo in situazioni del genere, il confronto tra il candidato sindaco del centro-sinistra Roberto Gravina e i rappresentanti del terzo polo su tutti d'Ambrosio per Italia Viva e Valente per Azione è durato pochi minuti. A tracciare un solco difficile da percorrere è stato il sindaco di Campobasso che ha aperto le porte della coalizione ai centristi, ma a patto che gli stessi rinuncino ai simboli di partito. Del resto immaginare il Movimento 5 Stelle, Italia Viva e Azione sotto lo stesso tetto dopo quello che si sono detti leader nazionali e fantascienza anche per la politica che è l'arte dell'impossibile. Loro potrebbero essere candidati in liste senza un simbolo di riferimento diretto ai partiti di Calenda e Renzi? Questo lo deve chiedere a loro semplicemente perché non è stato una disponibilità. In linea di principio no e quindi adesso bisognerà comprendere anche perché anche al loro interno evidentemente vanno chiediti alcuni aspetti e alcune dinamiche. Il sindaco di Campobasso al microfono di Stefania Potente replica altresì al centro-destra in Consiglio Comunale che ha chiesto le sue dimissioni. Il centro-destra deve essere un po' coerente mi sembra un po' cervellotico un po' ambivalente quindi immagino che lo faranno anche per Termoli ripeto la cosa più importante da chiarire è che anche se mi dimettessi si andrebbe comunque a votare a maggio e io credo che loro stessi non dovrebbero chiedere un commissario perché i commissari prefettizi lo sappiamo sono organi come dire esecutivi la politica verrebbe totalmente svuotata. Il matrimonio con Valente e soci difficilmente si farà più facile che i centristi trovino convergenze con la coalizione di centro-destra e sì perché anche con Michele Iorio il feeling non è ai livelli massimi soprattutto per la contrarietà del fronte più giovane dei centristi che vorrebbe puntare sul nuovo che avanza. Dicevamo di Iorio l'ex governatore dopo lo sgarbo subito per il metodo utilizzato per individuare Roberti quale candidato presidente continua ad avere la bocca chiusa e a meditare. Presto incontrerà la stampa per scoprire le carte probabile che si accodi alla coalizione di centro-destra seppur col dente avvelenato meno che decida di correre da solo magari insieme ad altri scontenti che più che a vincere punterebbero a far perdere i favoriti. A Pescara è pronto il piano dei parcheggi estivi dall'ultima settimana di maggio fino alla fine di settembre e tariffe tra le più basse d'Italia per le soste blu questo quanto ha evidenziato anche l'assessore alla mobilità Luigi Albore Mascia sentiamo Samantha Ciarla Stesse zone, stesse tariffe con una novità il parcheggio estivo quest'anno potrà essere pagato anche con il Bancomat a partire dall'ultimo fine settimana del mese di maggio e fino al secondo fine settimana di settembre torna la sosta a pagamento sulle due riviere di Pescara alle stesse condizioni già sperimentate lo scorso anno la gestione come per tutte le strisce blu cittadine è affidata a Pescara Multiservice in ciascuna zona il costo per ogni ora di sosta sarà di un euro si potrà rimanere per l'intera giornata pagando 4 euro all'ex Enaip 3 euro in zona meridiana e nelle due aree di sosta di via Bardella e 5 euro lungo le riviere sono previsti posti riservati ai residenti abbonamenti settimanali di 30 e 60 giorni gli ultimi due solo per i residenti a Pescara costo della sosta dimezzato per le auto ibride e stalli blu gratuiti per quelle elettriche lo scopo fa sapere l'amministrazione comunale è quello di incentivare la rotazione degli autoveicoli e al tempo stesso favorire l'utilizzo della mobilità dolce per tutti quei cittadini e per i turisti che decidono di trascorrere la giornata al mare va rimarcato come le tariffe applicate siano tra le più basse d'Italia sottolinea l'assessore alla mobilità Luigi Albore Mascia il montaggio dei parcometri inizierà già nei prossimi giorni in modo da essere pronti per la data del 27 ha spiegato il presidente di Pescara Multiservice Benedetto Gasbarro La CGL punta un protocollo di intesa con le istituzioni in provincia di Chieti per la legalità e per il contrasto al lavoro nero un fenomeno che preoccupa molto nella zona tra Basto e Lanciano come ha sottolineato ai nostri microfoni Franco Spina che è il segretario della CGL per Abruzzo e Molise sentiamolo nel servizio di Pasquale Damiani Il contrasto all'illegalità è tra i punti fermi della CGL che punta ad un protocollo di intesa con le istituzioni sulla legalità e il contrasto al lavoro nero ne abbiamo parlato con il segretario della CGL di Chieti Franco Spina Il contrasto all'illegalità che è sempre più diffusa anche in realtà come queste non più tardi nel 2021 ci fu una iniziativa anche da parte della Procura rispetto al caporalato che si è riaffacciato prepotentemente anche in queste zone ci furono degli arresti ci sono ovviamente anche altre attività tra il vastese e il lancenese dove ci sono al momento insomma indagini rispetto ad attività di questo tipo quindi c'è un allarmante fenomeno da un lato di precariato diffuso dall'altro di illegalità e noi siamo convinti che insieme alle istituzioni possiamo e dobbiamo fare qualcosa a partire ad esempio dal protocollo sulla legalità e il contrasto al lavoro nero che oggi cominceremo a discutere e molto probabilmente dobbiamo portare all'attenzione anche delle istituzioni come la prefettura grazie Liste d'attesa infinite pronto soccorso allo stremo medici di medicina generale pediatri assenti scatta così la mobilitazione permanente di cittadinanza attiva urgenza sanità il nome dell'iniziativa dell'associazione domani e sabato 13 maggio all'ospedale Cardarelli di Campobasso dalle 10.30 alle 12.30 e domani davanti all'ospedale Cardarelli e il 13 presso l'ospedale Santimotio ci saranno appunto dei referenti dell'associazione cittadinanza attiva per far conoscere i 14 diritti dei pazienti sanciti dalla Carta Europea dei diritti del malato che mirano a garantire un alto livello di protezione della salute umana sarà possibile sottoscrivere la petizione di cittadinanza attiva urgenza sanità per avere una sanità accessibile universale e pubblica la notte scorsa sulla Fondovalle Verrino in territorio di Agnone un furgone ha travolto una mandria di cavalli che erano in fase di attraversamento tre animali sono rimasti purtroppo uccisi nell'impatto col mezzo di lavoro altri due sono rimasti gravemente feriti per fortuna il conducente ha riportato solo ferite lievi stando ad una prima ricostruzione gli animali sarebbero scappati da un allevamento della zona forse perché impauriti da un branco di lupi sul posto i carabinieri di Agnone i vigili del fuoco il veterinario il servizio veterinario dell'Asrem mentre nel resto d'Italia gli studenti protestano per il prezzo stellare degli affitti il comune di Isernia avara importanti interventi per gli universitari sentiamo quali da Nicola De Santis l'amministrazione comunale di Isernia nella sala Raucci di Palazzo San Francesco ha presentato l'iniziativa in programma per agevolare la presenza degli studenti universitari in città mentre in molte piazze d'Italia sono scoppiate le proteste dei ragazzi contro gli affitti stellari delle grandi città il vice sindaco di Isernia Federica Vinci ha invitato i giovani a Isernia sia per la qualità della vita sia per i prezzi delle case decisamente abordabili si tratta semplicemente di una serie di servizi aggiuntivi per gli studenti delle studentesse che avranno sconti e offerte speciali da tutti quanti i gestori i negozi i servizi che decideranno di aderire come funzionerà semplicemente basterà andare sul sito del comune di Isernia scaricare il bando l'avviso pubblico compilarlo nelle sue parti e quindi inserire sia il nome del gestore sia il servizio che si vuole scontare e poi dal lato del comune verrà creata appunto una lista di tutti quanti coloro che hanno deciso di aderire con gli sconti che faranno per i ragazzi universitari i ragazzi dovranno poi a quel punto semplicemente presentarsi nel negozio nella palestra di riferimento presentare il proprio testino universitario e avranno applicate delle scontistiche ogni esercente che deciderà di aderire alla carta avrà poi un bollino da poter esporre all'interno del proprio negozio così che i ragazzi sapranno quali di questi negozi appunto fanno sconti offerte agli studenti presente in conferenza stampa anche l'assessore Ovidio Bontempo che ha promesso il massimo impegno dell'amministrazione comunale per riportare a Isernia una sede universitaria magari nel centro storico per donare una boccata ad ossigeno al borgo antico ormai agonizzante a causa dello spopolamento oltre 80.000 firme sono state raccolte dalla CGL contro l'autonomia differenziata nella giornata di ieri il segretario della FLC CGL Abruzzo e Molise Pino La Fratta ha consegnato al coordinamento nazionale a Roma oltre 1200 firme che insieme a quelle raccolte online attraverso lo speed fanno del Molise una di quelle regioni che in percentuale ha contribuito maggiormente al risultato finale i numeri raggiunti ha detto La Fratta premiano lo straordinario impegno che ha visto coinvolti in prima linea la FLC CGL e il coordinamento per la difesa della Costituzione è necessario ha aggiunto che i rappresentanti istituzionali la delegazione parlamentare del Molise e la politica regionale tengano in considerazione questo risultato e si confrontino su questi temi noi continueremo a mobilitarci a chiuso La Fratta venerdì è in programma la settima tappa del Giro d'Italia da Capo a Campo Imperatore con l'attraversamento della regione Molise l'amministrazione di Montaquila ha decretato per quel giorno la chiusura di tutte le scuole presenti sul territorio inoltre saranno chiuse al traffico gli accessi comunali e non sulla statale 158 e sulla statale 85 per quanto riguarda il tratto su cui passerà la corsa rosa dalle ore 9.30 alle 14 o comunque fino al passaggio del Giro previsto inoltre il divieto di attraversamento pedonale in qualsiasi punto del tratto che abbiamo detto interessato appunto che sarà interessato dalla corsa ci sarà anche il divieto di sosta su entrambi i lati i veicoli presenti su quel tratto e in quella fascia oraria saranno oggetto di rimozione forzata l'Abruzzo si posiziona al quindicesimo posto dell'indice delle madri cioè lo studio elaborato dall'ISTAT per Save the Children diffuso oggi in prossimità della festa della mamma che traccia un bilancio aggiornato delle molte sfide che le donne devono affrontare nel momento in cui diventano madri l'indice è il risultato di un'analisi basata su sette dimensioni demografia lavoro servizi salute rappresentanza violenza soddisfazione soggettiva il valore del Mother's Index pari a cento rappresenta il termine di riferimento e col punteggio di 97,5 nella classifica delle regioni l'Abruzzo è lontano dalla provincia autonoma di Bozzano che è al primo posto e che è seguita da Emilia Romagna e Valle d'Aosta si attesta come detto al quindicesimo posto a Campobasso è stato inaugurato il centro d'aiuto alle famiglie con minorenni vittime di violenza o che hanno commesso dei reati sarà dotato di uno sportello di ascolto tutti i dettagli nel servizio le famiglie che hanno figli vittime di violenza o abusi oppure autori loro stessi di reati avranno un punto di riferimento prezioso il centro di aiuto B-Future Molise inaugurato questa mattina in Viale del Castello a Campobasso nel centro storico accanto alla sede del centro LGBT grazie a un finanziamento di 180.000 euro che siamo riusciti ad accaparrarci Dipartimento per le Famiglie abbiamo realizzato questo progetto che durerà 18 mesi e che vede anche la realizzazione di questo centro di ascolto per famiglie con all'interno minori abusati e abusanti per realizzare un percorso di recupero per dare alternative di vita a questi ragazzi che spesso loro malgrado e altre volte perché inseriti all'interno di contesti sociali difficili si rendono protagonisti di questi gesti Chi avrà bisogno di aiuto troverà un'equip di professionisti È un servizio che si rivolge ai minori abusati e ai minori abusanti e ove necessario si prenderà in carico l'intero nucleo familiare il tutto chiaramente è integrato all'interno di una rete pubblica perché è un servizio pubblico che fa capo all'ambito territoriale e sociale di Campobasso e va ad integrare quelli che sono già servizi esistenti come il centro antiviolenza ugualmente gestito dalla cooperativa Bifri Nel percorso di recupero ci sarà uno staff di psicologi coordinati dal dottor Nicola Malurni dall'indagine sociale alla psicoterapia agli incontri protetti l'ascolto giudiziario ormai la figura dello psicologo è indispensabile per assicurare sicuramente la tutela dei diritti dei bambini sia vittime sia anche autori di reato per cui c'è un accompagnamento dalla fase valutativa durante tutto l'iter giudiziario fino ovviamente al reinserimento sociale di minori che hanno non solo subito violenze ma che sono stati loro stessi autori di reati Nelle scorse ore è stato siglato un importante accordo tra le associazioni Plastic Free e Ampeas On Loose un protocollo che contribuirà a rafforzare la rete territoriale e degli attori che operano fattivamente per tutelare l'ambiente L'Ampeas Associazione Nazionale per la Progettazione e le Attività Sociali e l'Associazione Plastic Free unite nella difesa tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale una mission portata avanti da entrambe le associazioni Ampeas con la progettazione di servizio civile nello specifico con il programma di intervento Storia Cultura in Natura in Molise un patrimonio da preservare e valorizzare e Plastic Free attraverso le innumerevoli iniziative di sensibilizzazione nelle scuole e nei comuni sulla pericolosità dell'inquinamento da plastica ma anche tramite appuntamenti di pulizia di città spiagge parchi e fiumi Siamo impegnatissimi nella programmazione e progettazione di progetti appunto di servizio civile universale e in questa fase noi guardiamo il territorio guardiamo quelli che sono gli enti che meglio possono in qualche modo costruire insieme a noi una rete e proprio per un progetto che riguarda in particolare l'ambiente abbiamo pensato a Plastic Free come un'associazione che poteva dare un forte contributo contributo inteso sia in termini di educazione verso l'ambiente ma anche di azioni attive che abbiamo riportate all'interno appunto del nostro programma di servizio civile e in particolare nel progetto che riguarda l'ambiente da qui l'intesa tra i due enti formalizzata dalla firma di un protocollo tra la presidente Ampeas Patrizia Pano e il referente Plastic Free Giuseppe Fabiano alla presenza della progettista Fabiola D'Aurizio e dei giovani volontari di servizio civile dell'Ampeas un'opportunità importante per Plastic Free che potrà raggiungere gli enti accreditati con Ampeas sensibilizzando un più ampio numero di persone Plastic Free ha ritenuto necessario un accordo simile proprio perché ha riconosciuto in Ampeas una presenza molto capillare sul territorio e quindi ha ritenuto importante entrare in questa rete sostanzialmente per poter dare un contributo su quella che è la tutela ambientale E' il momento del meteo scopriamo insieme che tempo farà in Molise e in Abruzzo nelle prossime ore Previsioni del tempo di giovedì 11 maggio l'alta pressione interessa gran parte del Molise e favorisce condizioni di bel tempo eccezione fatta per isolati fenomeni pomeridiani le temperature Campobasso minima 10 massima 20 gradi Isernia 12 19 Termoli 12 21 Venafro 12 22 in Abruzzo una circolazione depressionaria determina molte nubi foriere di deboli piogge pomeridiane le temperature l'Aquila minima 11 massima 20 gradi Pescara 13 21 Chieti 12 21 Teramo 11 19 L'informazione in diretta torna questa sera alle 19 30 ma non andate via perché tra poco c'è la pagina sportiva ben trovati a tutti voi con la pagina sportiva di tele regione in apertura parliamo di calcio e dell'impegno il doppio impegno che attende l'Isernia quello con i playoff nazionali la prima gara sarà in casa dell'Agropoli mister De Bellis sta preparando i suoi per questo importante questa importante doppia partita Isernia San Leucio concentrata sui playoff nazionali che potrebbero regalare ai pentri l'accesso alla Serie D certo la strada è lunga e piena di insidie ma allo stesso tempo affascinante sì perché alla fine si tratta di quattro gare semifinale e finale andata e ritorno contro super corazzate ma andiamo con ordine oggi la ripresa dell'attività nel quartier generale dell'Ancellotta poi 19 giorni per preparare nei minimi dettagli la gara di Sordio in Campania ad Agropoli in provincia di Salerno l'andata il 28 maggio il ritorno il 4 giugno contro la vincente dei playoff Campania 2 una squadra senza alcun dubbio molto forte ma alla portata della formazione bianco celeste che contro le grandi si esalta e vende cara la pelle mister De Bellis ci crede per questo ha concesso ai suoi un giorno in più di riposo poi sotto a lavorare c'è il tempo per approntare un percorso che porterà i pentri a curare ogni aspetto non solo quello fisico e a studiare gli avversari per acuirne i punti deboli l'eventuale passaggio del turno consentirebbe a Mingione e Sochi di vedersela con chi si aggiudicherà l'altra semifinale tra Basilicata città dei Sassi Matera e Puglia vincente dello spareggio tra Gallipoli e Manfredoni la Salernitana andrà in ritiro a Rivisondoli la squadra di Paolo Sosa sarà nella località abruzzese dal 10 luglio al 5 agosto dopo in Napoli un altro team campano ha scelto quindi i monti dell'Alto Sangro per la propria fase precampionato per i granata quasi salvi in Serie A è un ritorno a casa visto che erano stati già a Rivisondoli nel 2018 hanno ufficializzato le date con una lettera inoltrata al sindaco Giancarlo Iarussi quasi un mese quindi di soggiorno e di preparazione per scalare la classifica nella prossima stagione l'Alto Sangro si conferma come detto una meta importante per il turismo sportivo tra la Salernitana e Rivisondoli e il Napoli campione d'Italia che tornerà a Castelli Sangro non a caso la cittadina si sta preparando per strutturare una serie di eventi tra cui il concerto di Gigi D'Alessio in programma il 5 di agosto per il calcio a 5 tra l'amarezza causata dal doppio K.O. con la finice Venezia Mestre e la volontà di riscatto contro gli Sporting Hornets il Cusmo Lisi si sta guardando con grande attenzione sta guardando con grande attenzione le prospettive della prosecuzione di stagione a dare un riferimento è il capitano dei Rosso Blu Antonio Di Stefano che ha intervistato per noi Francesco Presutti Antonio molto rammarico per questa gara di ritorno però ovviamente non era semplice dopo il risultato dell'andata si chiaramente dopo il risultato dell'andata oggi abbiamo avuto avere un atteggiamento un po' più spregiudicato rispetto al solito il risultato ce lo imponeva era difficile recuperare tre reti ci abbiamo provato raccogliamo poco rispetto a quello che costruiamo a mio avviso e arrivati a questo punto della stagione non conta il bel gioco ma conta buttare la palla dentro adesso abbiamo l'ultima opportunità nel doppio confronto contro Ionez di Roma e cercheremo di essere un po' più attenti a gara 1 per cercare poi di portare la contesa a nostro favore nella gara di ritorno del 20 maggio punteggio che non rispecchia l'andamento perché nel finale avete mollato sì chiaramente la partita l'abbiamo fatta solo noi loro sono rimasti giustamente chiusi in difesa e noi abbiamo cercato in tutti i modi di trovare la marcatura col portiere di movimento non ci siamo riusciti e poi nel finale il risultato ha dato ragione a loro ma chiaramente noi avevamo dato già tutto nei primi 35 minuti peccato perché oggi davvero c'era un grande pubblico sì il campo basso ha risposto bene ci fa piacere chiaramente hanno capito il momento e ci hanno supportato e per questo ringrazio e colgo l'occasione adesso per invitarli l'ultima volta sperando di centrare insieme il salto di categoria una squadra con una maggiore esperienza sarà quella che gli Spec Devils campo basso allestiranno per la prossima stagione che sarà la terza consecutiva in serie B a delineare il quadro sempre al microfono di Francesco Presutti il patron Marco Pulitano Marco finale di stagione con questa bella vittoria contro Roma 7 sì abbiamo riscattato la sconfitta dell'andata cosa fondamentale la pretendevo dai ragazzi se posso dire è questo purtroppo il nostro declino tra virgolette è iniziato proprio da quella trasferta brutta trasferta in una palestra allucinante direi che forse ci ha fatto riflettere anche sulla scelta di questo girone da parte della federazione perché mi permetto di dire oggi sono stato lontano dalla stampa un po' di tempo che è davvero un brutto girone di impianti sportivi fatti scenti dove è davvero difficile fare un campionato di serie B non è una polemica la mia ma anzi quella di di vantarci ogni tanto di quelle che sono le infrastrutture che abbiamo qui in Molise la nostra palestra è una palestra dove possono venire famiglie e vedere uno sport sano devo dire che mi permetto di dire che un campionato di serie B nel girone laziale è davvero difficile da effettuarsi con gli impianti sportivi che ci sono ma ripeto non vuole essere una polemica ma una constatazione senti Marco per quanto riguarda invece il lato tecnico diciamo che campionato è stato il campionato è stato duro sicuramente duro noi abbiamo fatto una scelta quella l'ho detto sin dall'inizio tre anni fa noi puntiamo a creare un movimento giovanile senza movimento giovanile saremo sempre costretti a far venire giocatori da fuori che non sempre mi permetto di dirlo non sempre sposano un progetto perché questo è lo scotto che paghiamo qui in Molise perché non avevamo un movimento giovanile maschile quindi noi come società ci stiamo impegnando a fare questo quest'anno già abbiamo i primi risultati abbiamo vinto diversi campionati e questa è la cosa che per noi è fondamentale se non partiamo da lì non abbiamo mai la possibilità di crescere e saremo sempre costretti a fare acquisti sul mercato abbiamo delle punte che sono Santucci che però chiaramente ha i suoi anni e quindi prima o poi ci mollerà e quindi vorremmo che come abbiamo sempre detto i giovani si avvicinassero a questo sport cercando di avere come riferimenti queste persone di campo basso del Molise e così come vorremmo che tanti giocatori molisani che sono sparsi in tutta Italia decidessero di giocare in Molise questa è una cosa che ci dispiace moltissimo lo dico senza remore insomma però il campionato è stato duro due partite sbagliate ci hanno tirato fuori dai playoff oggi se non avessimo sbagliato esattamente due partite saremmo lì playoff giocandoci la serie A3 abbiamo capito dopo due anni forse i nostri errori quest'anno abbiamo fatto la squadra troppo giovane forse inesperta che davanti a delle squadre molto più esperte di noi hanno sofferto troppo però ci siamo devo dire che è stato entusiasmante io credo che vedere il palazzetto pieno ci siamo confrontati spessissimo e per noi la cosa più bella poi l'obiettivo era quello quello di creare movimento creare entusiasmo e devo dire che anche questa sera nonostante l'orario nonostante la fine della stagione c'è l'entusiasmo e questa è la cosa per noi fondamentale bene è tutto per la pagina sportiva vi ricordo potete seguirci anche attraverso i nostri canali web quindi il sito teleregionetv.it oppure i social Instagram Facebook o il canale Youtube ancora grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento con i programmi di Teleregione arrivederci Grazie a tutti